Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi il nuovo video unboxing. Come vedete qui accanto a me è una bella montagna di pacchi e non mancheranno cose a tema Harry Potter, J.K. Rowling e tantissime altre novità, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling utilizzando il mio codice sconto 7Potter avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti e il codice sconto è cumulabile con tutte le offerte in corso. Su Pampling trovate magliette, calzini, poster, cover e chi più ne ha più ne metta, anche le nuovissime mascherine riutilizzabili fino a 70 volte, tutte naturalmente super nerd. Oggi ad esempio di Pampling indosso questa maglietta che vi piace sempre molto, dedicata alla casa di carta. Ma adesso cominciamo col nostro unboxing e prima di cominciare con i primi pacchi chiedo umilmente perdono ad Alessandra che in queste settimane mi ha mandato ben tre pacchi che arrivano tutti e tre da Universal Picture Home Entertainment e si sono accumulati velocemente e finalmente ho trovato il tempo di potervi dimostrare. Quindi adesso li andiamo subito ad aprire assieme e partiamo da questo qui in alto e vediamo cosa contiene naturalmente sono tutte nuove uscite in home video. Wow, questo è una figata, questa è una figata pazzesca il mega cofanetto in DVD della serie vincitrice di 16 Emmy Awards, Will & Grace. Questa è la collezione completa dalla stagione 1 alla stagione 8, quindi questo cofanetto non include le nuove tre stagioni, quindi il revival della serie che è finita da poco e probabilmente arriverà in un cofanetto a parte, quindi vi terrò aggiornati. Molto bello questo cofanettone, così questa amarei così enorme e all'interno abbiamo tutti i vari dischi e sono molto molto belli perché sono serigrafati, quindi abbiamo tutte le immagini stampate sui DVD. Contiene una montagna di DVD, non è indicato quanti ma sono una montagna ragazzi, sono davvero tantissimi. Io avevo già un cofanetto di Will & Grace ma era diverso, erano suddivise per stagioni ed era enorme, mentre questo qui è molto molto più pratico. Prossimo pacco, sempre da Universal Picture Home Entertainment e vediamo cosa c'è all'interno. Wow ragazzi, questo vi farà impazzire, è uscito da pochissimo. Si tratta del cofanetto in DVD la collezione completa di Downton Abbey, quindi tutte le sei le stagioni della serie e però include anche il film. Quindi molto molto comodo, secondo me idea regalo per i fan di Downton Abbey, idea regalo di Natale, super super azzeccata e poi ci sono anche dei contenuti speciali, circa 5 ore di contenuti speciali come ad esempio Una Villa Nella Storia, Downton Abbey, perché come saprete si tratta di High Clare Castle, che è un proprio castello che si può visitare a circa due ore da Londra, quello che ospita le vicende della famiglia Crowley e poi abbiamo scene eliminate, la visita reale, quindi si parla anche del film, le conversazioni col cast, commento al film del regista e molto altro. Io lo trovo sempre molto molto bello, mi avevano già inviato un cofanetto che però era differente, mentre questo qui come quello di Will & Grace io lo trovo molto molto comodo perché è più facile da trasportare e vediamo all'interno se anche questo è serigrafato ma di solito Universal le fa sempre così e infatti esattamente ecco che all'interno abbiamo una montagna di dischi tutti tutti serigrafati con i protagonisti. Davvero bellissima anche questa edizione ovviamente ragazzi trovate i link ad Amazon sotto in infobox per tutto quello che vi sto mostrando è ultimo pacco sempre da Universal, questo ha una forma un po' diversa, vediamo cosa c'è all'interno ok, Ravis Burger, non me l'aspettavo ragazzi, questo non me l'aspettavo, vediamo cosa c'è, di cosa si tratta ritorno al futuro ragazzi, ritorno al futuro, abbiamo il cofanetto Blu-ray con la trilogia bellissimo, fighissimo questo cofanetto con il titolo in rilievo, mi piace un sacco, andiamo ad aprirlo ok, ecco qui, vediamo com'è all'interno, mi sembra un cartonato, se non sbaglio, vediamo molto, molto bello, mi piace, mi piace tantissimo, guardate abbiamo ben 4 dischi, questa edizione è davvero tanto tanto figa con un disco qui alla fine di contenuti speciali e dietro ogni disco sembrerebbe esserci la locandina, si infatti dietro ogni Blu-ray abbiamo la locandina del film corrispondente, molto bella quest'idea, molto bella questa edizione per celebrare l'anniversario di ritorno al futuro, davvero molto molto bella, naturalmente nel disco dei contenuti speciali abbiamo oltre un'ora di contenuti, il museo di Hollywood di ritorno al futuro, il dietro le quinte di ritorno al futuro il musical, un futuro alternativo e poi sei sopravvissuto al film di ritorno al futuro esplora la magia e la scienza di ritorno al futuro e tantissimi altri contenuti e poi mi hanno inviato questo che è un gioco di Ravesburger dove vediamo qual è lo scopo, Biff ha rubato la DeLorean e si è fatto un giro nel tempo sconvolgendo eventi e disperdendo oggetti. Ora sta a voi collaborare per completare insieme eventi chiave della trilogia cinematografica di ritorno al futuro e riportare al loro posto gli oggetti smarriti, saltare a bordo della macchina del tempo e aiutate Doc e Marty a ripristinare l'equilibrio temporale. Il futuro è nelle vostre mani e qui dietro c'è l'illustrazione del tabellone con le pedine di gioco, non sto qui ad aprirlo ragazzi perché altrimenti poi perderei ore a rimettere tutto nella scatola ma grazie, grazie mille tantissime all'Universal Picture Home Entertainment, grazie mille anche ad Alessandra che mi sopporta sempre e niente ti voglio bene Alessandra e adesso passiamo ancora avanti con altre novità. Adesso ci spostiamo verso il mondo di Harry Potter perché abbiamo cose molto molto interessanti. Ok era una slipcase ed io invece l'ho aperta da dietro perdendo mezz'ora. Il prossimo pacco mi è stato gentilmente inviato da Rizzoli e si tratta di un libro che quando l'ho visto su internet credevo fosse inizialmente tratto da Harry Potter e invece poi ho scoperto essere un vero e proprio libro che ragazzi abbiamo sentito citare tantissime volte nella saga cinematografica e che adesso invece possiamo acquistare e mettere nella nostra libreria. Si tratta di Storia della Magia. Ragazzi Storia della Magia non di Batil Dabat ma di Chris Gosdin. Ragazzi è bellissimo guardate quanto è bella questa copertina e sembra proprio uscita da uno dei film di Harry Potter e questo libro parla esattamente di quello che dice il titolo. Parla della storia della magia. Partiamo dagli uomini delle caverne dai primi sciamani fino ad arrivare all'antico Egitto all'alchimia fino alla magia dei giorni d'oggi che sarebbe ad esempio l'oroscopo. Ragazzi è un viaggio molto molto affascinante attraverso appunto la storia della magia dell'uomo e come è influenzato l'essere umano la magia queste credenze e si parlerà di stregoneria si parlerà ragazzi di tutto quello che è relativo e affine alla magia. Ovviamente ragazzi non avendolo ancora letto non so dirvi moltissimo nel dettaglio ma solo quello che c'era riportato sulla scheda che lo accompagnava sulla scheda tecnica del libro ma io sono impazzito già dal titolo ragazzi non può essere diversamente storia della magia quante volte l'abbiamo sentito nominare questo volume e quindi averlo qui tra le mani e aggiungerlo soprattutto la mia collezione di Harry Potter perché andrà assolutamente lì in quella collezione a me piace da morire già solo l'idea. Fatemi sapere nei commenti se voi lo conoscevate già se sapevate dell'uscita di questo volume e naturalmente trovate in infobox il link ad amazon per acquistarlo. Io ringrazio tantissimo Rizzoli per avermene inviato una copia e naturalmente ragazzi fatemi sapere se vi va di sentirne parlare ancora sul canale magari dopo averlo letto se vi va una recensione dettagliata di questo volume fatemi sapere sotto nei commenti e naturalmente ne parleremo anche su instagram ve ne parlerò più avanti quindi intanto lo mettiamo da parte ma ne sentirete ancora parlare. Adesso invece ci spostiamo in zona JK Rowling e ragazzi ho qui questo pacchetto che mi è stato gentilmente inviato da Salani che ringrazio tantissimo perché mi hanno inviato un volume che sono curiosissimo di leggere. Parliamo di JK Rowling e parliamo di Icabog dell'Icabog che è il nuovissimo volume che è appena arrivato ed è appunto scritto da JK Rowling. Dietro questo volume c'è una storia molto interessante in poche parole JK Rowling aveva scritto questa storia per bambini già diverso tempo fa ma non aveva mai avuto l'occasione di poterla pubblicare perché lavorava a moltissimi altri libri come quelli di Cormoran Strike alla sceneggiatura di Animani Fantastici e tantissime altre cose e quindi l'ha sempre tenuto un po' da parte. Una volta trovatosi anche lei a casa a causa del lockdown ecco che ha deciso di ritirare fuori questa sua storia però cosa ha voluto fare? Ha voluto tenere compagnia ai bambini di tutto il mondo durante appunto il lockdown e veniva pubblicato sul sito di JK Rowling periodicamente un capitolo di questo libro. Successivamente è stato lanciato un concorso dove i bambini di tutto il mondo avrebbero illustrato questo volume. Questo volume e questi disegni, i disegni dei bambini vincitori sarebbero stati inclusi all'interno della versione cartacea e così è stato. Quindi io non vedo l'ora di leggere questo volume. Qui abbiamo la scheda tecnica del libro che è uscito il 10 di novembre e che naturalmente vi linko sotto in infobox. Qui dietro troviamo scritto alto come due cavalli, occhi infocati, artigli affilati come rasoi. L'Ikabog sta arrivando. E ragazzi quanto è bella questa copertina è gommata, è bellissima con le scritte in oro e poi all'interno ovviamente abbiamo le varie illustrazioni dei bambini. Vorrei farvene vedere una, vediamo qui, perché mi è stato detto che c'è anche l'illustrazione di una bambina siciliana e abbiamo questa bella illustrazione a matita con questa cameriera che origlia con un bicchiere attraverso i muri. È davvero molto molto bello all'interno, le pagine sono bianche e appunto abbiamo tutte queste illustrazioni dei bambini. Ho letto diverse recensioni di questo volume, ne ho sentito parlare bene, la storia sembra essere molto bella e quindi anche questo in lista d'attesa per essere letto. Ma ragazzi di solito a me i libri di J.K. Rowling non deludono mai. Ho letto tutti i libri di Cormoran Strike, ho letto Il Seggio Vacante e fino ad oggi mi sono sempre piaciuti. Quindi vi consiglio di acquistare anche questo volume qui per la vostra collezione e lo trovate, come vi dicevo, linkato in info box. Ma adesso voglio farvi vedere il mio ultimo acquisto da aggiungere alla collezione perché si tratta di una cosa che ho beccato assolutamente per caso su ebay. Stavo girovagando un po' su ebay, avevo un coupon da 5 euro da spendere su ebay, su una spesa minima non ricordo di 20 se non sbaglio, e girovagando lì sui vari post, sulle varie inserzioni a tema Harry Potter, mi sono imbattuto in una Nimbus 2000. e inizialmente credevo fosse la replica quella lì grande, scala 1 a 1, infatti non avevo neanche tanto fatto caso al prezzo. Poi però ho spostato lo sguardo e ho notato che si parlava di 29,90€. A quel punto avevo un buono da 5 euro, c'era scritto che era una riproduzione in scala ufficiale della Nimbus 2000, non c'erano moltissime informazioni nell'inserzione, ma usando il buono per 25 euro ho voluto provare. Dopo circa una settimana, ecco che mi è arrivata questa scatola qui. Questa scatola qui che è molto leggera, ma che all'interno contiene una Nimbus 2000. Purtroppo è arrivata un po' ammaccata, ma fa niente. E come vedete si tratta di un prodotto sotto licenza, quindi ufficiale Harry Potter Wizarding World, ma è un prodotto della Furio, o credo si dica così ma non sono sicuro, della Furio, che a quanto pare è un'azienda giapponese che si occupa di repliche e appunto è una replica di 45 cm ufficiale della scopa di Harry Potter, della Nimbus 2000. Come vedete qui è scritto tutto in giapponese, anche Harry Potter è scritto in giapponese, anche Nimbus 2000. E anche da questa parte tutte le varie informazioni sono in lingua giapponese. Io ho poi cercato meglio una volta ricevuto il prodotto e sono riuscito a trovarlo anche su Amazon, più o meno allo stesso prezzo. Quindi vi lascio anche il link di questa sotto in info box per poterla prendere direttamente su Amazon. Io naturalmente l'ho già aperta per poter controllare se fosse tutto integro, visto che è già passata qualche settimana. E ragazzi, ecco come si presenta all'interno. Troviamo la nostra Nimbus avvolta nel Pluriball e protetta da dei cartoncini. È molto leggera perché è fatta in plastica, ma è fatta molto molto bene. È super dettagliata e sono rimasto anche super super contento perché, guardate un po', abbiamo proprio la Nimbus, quindi anche le setole della scopa sono riprodotte, anche se scolpite in plastica, quindi è molto leggera. È totalmente in plastica, però ha anche questa parte qui, quella dove si poggiano i piedi, diciamo le staffe, che si possono aprire. Eccola qui, si possono aprire e quindi è possibile mettere in esposizione su una mensola la scopa perché sta tranquillamente in piedi come quelle scala 1 a 1 che costa millemila euro. Qui sul davanti abbiamo anche tutti i rami, diciamo la parte iniziale dei rami scolpita completamente, quindi curata nei minimi dettagli. La colorazione in oro è fatta benissimo e poi, naturalmente, immancabile il logo dorato Nimbus 2000 qui nella parte finale della scopa e anche dall'altro lato. Quindi devo dire che è fatta molto molto bene, fa davvero la sua figura. Io non ho mai acquistato la replica quella lì 1 a 1 perché non saprei assolutamente dove metterla, una scopa di quelle dimensioni. E questa qui mi è sembrata un buon compromesso da aggiungere alla collezione. E' fatta davvero molto molto bene, guardando l'esposta sembra quasi che sia davvero in legno e invece è totalmente in plastica. Non pesa niente, quindi non è davvero difficile da mettere su una mensola, su un ripiano. E ragazzi, sono davvero molto contento e molto soddisfatto di questo acquisto assolutamente casuale, non preventivato, che ho fatto d'impulso su eBay, tentando la sorte e sperando che mi arrivasse qualcosa di decente. E devo dire così è stato. Sono super super contento di averla presa e spero di trovare più avanti anche le altre scope, ad esempio la Nimbus 2001, la Firebolt e chi più ne ha più ne metta. Quindi mi piacerebbe molto metterle esposte una accanto all'altra. Quindi confido in questa azienda, in Furio, perché mi porti novità e grandi cose, visto che potrebbero anche creare tantissime altre cose a basso prezzo, perché devo dire 30€, inclusa la spedizione, mi sembra davvero un buon prezzo. Noble Collection ha prezzi molto più alti e comunque si tratta di prezzi sotto licenza. Quindi super super consigliato. Detto questo mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate, attivate la campanella, tutte le solite cose. Mi raccomando ragazzi sotto in info box trovate tutti i link, anche quello alla mia vetrina Amazon dove ho realizzato un negozio in collaborazione con Amazon con tutti gli articoli e temi Harry Potter che praticamente ho portato qui sul canale fino ad oggi ed anche altre cose che non ho ancora acquistato ma che acquisterò in futuro. Quindi sotto potete spulciare tutto, ci sono tantissimi link. E detto questo io vi do appuntamento a prestissimo con tantissimi altri video e tante novità a teme Harry Potter. Io vi saluto e naturalmente vi chiedo di continuare a seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Antonio.seria. Ciao!